salve a tutti ragazzi bentornati sul canale benvenuti in questo nuovo video continuiamo la nostra cittadina qui che ha qualche problemina ancora da dover andare a sistemare per quanto riguarda sia il traffico in questa piccola zona insomma dove stiamo facendo nascere sia grattacieli abitativi sia quelli dei vari uffici e poi stavo vedendo che le zone industriali qui c'è un po di problemi per quanto riguarda le materie prime perché mi dice che so troppo costose i costi risorse alti tra l'altro hanno fatto un aggiornamento di recente che hanno sistemato alcune cose tra cui anche la gestione del traffico per quanto riguarda il cambio delle varie corsie da parte delle delle auto per evitare insomma ingorghi lunghissimi che si incolonnavano tutti in un'unica corsia magari chi doveva andare da un'altra parte poteva sfruttare un'altra corsia non lo faceva e quindi si facevano code ancora più lunghe di quelle che magari effettivamente dovevano nascere e tra l'altro stavo vedendo anche i vari entrate che non so perché sinceramente ora c'è un'entrata di 63 milioni e 364 mila io non ho capito il perché sinceramente questa cosa mi entrano soldi come se non ci fossero domani sono andato a vedere la tassazione bassa insomma che non è che quindi non vorrei che hanno fatto il contrario cioè più la bassa più aumenti le tasse non lo so più di così lo dovrei portare a zero cioè abbiamo un sacco di introiti per quanto riguarda la zona industriale e va bene però insomma la tassazione al 3% mi sembra abbastanza abbastanza bassa insomma chi è che c'è da tutti sti sordi questo del cemento cioè 32 milioni di introiti per la per l'industria del cemento così anche le bevande non lo so che è successo secondo me è scazzato qualcosa tra i vari aggiornamenti magari vecchi salvataggi perché non c'è sono partiti da che avevamo problemi per ricordare nei primi episodi insomma avevamo problemini a stasso positivi con il bilancio e quant'altro poi hanno fatto l'aggiornamento per esportazione delle merci che quanto pare non si faceva non si faceva abbastanza eccetera lì siamo andati in positivo netti e adesso c'è assurdo 67 milioni di positivo certo praticamente non arrivi mai a finire i sorti praticamente impossibile c'è assurda come cosa non lo so lasciamo così non c'è per evitarsi 65 milioni dovrei togliere effettivamente le le tasse sulle industrie e comunque andrei positivo insomma che non è proprio te credo che questi ci hanno problemi per reperire i materiali questo produce cemento richiede roccia che non riesce a a fare tra l'altro potremmo eventualmente anche vedere noi la questione delle materie prima perché volendo potremmo ovviamente crearcele anche noi cioè crearcele produrle anche noi vediamo un po per esempio questa cosa della roccia se nelle vicinanze abbiamo qualcosa allora ci segna qui che qua insomma non sarebbe male fare una sorta di cava e qua sopra vabbè sulle montagne chiaro è quasi quasi non è non è male fare qualcosa qui perché tanto non ci siamo ancora arrivati c'è già eventualmente uno svincolo c'è già l'autostrada quindi volendo possono venire direttamente qui e abbiamo già la strada questa qui che abbiamo appunto allunghiato fino a fino a qui per collegarla poi eventualmente alla zona che creeremo qua per appunto l'invio delle risorse secondo me potremmo farlo dai proviamo un meno come questa cosa allora questa la mettiamo qui era che la mettiamo più o meno al centro ok e qua poi ci darà anzi il raggio funziona sta cosa altro che infini cittadini allora aspetta un attimo vabbè intanto la piazzata però aumentiamoci un paio i confini quanti soldi ci avevamo appalate proprio quindi possiamo aumentare veramente quanto ci pare cioè andremo a ad avere bisogno dei di quadrini più che più che dei soldi per appunto accrescere la zona qui allora vediamo un attimo come funziona sta cosa facciamo così ok troppo noi c'è una zona ovviamente circolare in pa un casotto ah figata poi lui in automatico ci crea la la macchina vediamo se riusciamo eh forma non valida eh non posso andare oltre ovviamente e quindi ho sbagliato a piazzarla pensavo che potessi andare allora aspetta non me la fa aspettate devo toglierla un attimo pensavo che potessi fare intorno invece no mi fa fare soltanto davanti al alla zona quindi questa la dovrei mettere qua più o meno fatto sempre solo davanti c'è fa fa vediamo un attimo ah no aspetta solo davanti però la parte aspettate 3 ore che è la tolga la tolga la tolga la tolga soltanto la parte verde quindi devo fare eh più o meno tipo così vediamo un attimo se ci riusciamo anche perché abbiamo la circonferenza quindi non è che posso andare più da tanto lontano ah ma me lo fa fa cioè prima mi diceva che non andava bene la la forma e ora me lo fa fare e allora aspetta la tostata la fa ma è brutta e passa sotto che cacchio ce ne frega vabbè per il momento mantienila un attimo così cosa me l'ha presa non manco per niente infatti allora un attimino mettiamo pausa c'è un po' di lavori alla viabilità qui che tanto mi stavo a fare praticamente sempre poi un'altra cosa che devo andare a controllare ragazzi mi avete anche segnalato io vi ringrazio tanto se mi segnalate insomma alcuni consigli e quant'altro magari non li metto subito in pratica perché cerco sempre di registrare più di un episodio di seguito e quindi capita che ne metto in coda due o tre e ovviamente poi devo insomma aspettare che escano prima di poter eventualmente registrare i nuovi e appunto mettere in pratica quello che mi consigliate mi avete detto la gestione per quanto riguarda il la i mezzi di comunicazione insomma che ho fatto alcuni errori per quanto riguarda la metropolitana poi ve li faccio ve li faccio vedere per la gestione delle linee più che altro anche la zona quella dove escono appunto i treni l'ho interpretata diciamo male e quindi ho fatto passare la linea dove effettivamente non dovrebbe passare insomma perché li escono quindi ho fatto un po' di di impicci e quindi c'è da da sistemare insomma anche quella zona lì allora intanto sistemiamo questi così vanno sotto e non ci danno noia vediamo se riusciamo a far bene invece sta zona qui quindi abbiamo detto questo lo facciamo partire da qua mi sembra che si chiama abbastanza liberi da poter fare tutta la zona ok ok ora vedi c'è forma non valida prima c'erano le strade in mezzo e mi rompeva le schiatole ma adesso forma non valida oggetto i sovrapposti perché ci stanno le di qua volendo ci possa andare se sposto eventualmente la corrente non so quanto ne guadagna cioè quanto ne crea allora aspettate intanto facciamo tutto quello che gli serve cioè liquami fogni elettricità vabbè perché non è collegata a nessuna strada ovviamente quindi ci facciamo questa doppia corsia azzi a tripla corsia quindi questa la proseguiamo e ci facciamo appunto vabbè a tripla corsia mi sembra eccessiva facciamo tipo questa che parte direttamente da qui e si inserisce qua così così tecnicamente in automatico dovrebbe prendersi corrente liquami e quant'altro ok ok questa sta già andando ottimo non so quante ne produce però piegati uno di uno velocizziamo un attimino se non me lo dice efficienza 124% non lo strano cioè non mi dice niente su quanta ne famo tariffa elettricità 120% produce roccia si però non mi dice quanta ne stiamo facendo boh vabbè vediamo dai allora qui intanto possiamo togliere semafori cose insomma per il momento non c'è problema volevo invece anzi mi metto un attimo pausa perché qui volevo togliere questi li facciamo passare sotto terra così proviamo ad allargare un po' anche tutta la la l'aria di scavo qua ok ripetiamo pure play così posso arrivare qua eh trascinare possiamo possiamo allargarla al massimo ok credo che più di così non possiamo andare anche perché abbiamo la circonferenza qua c'è il mare quindi cioè non va bene pure così ok efficienza 90% impiegati ecco adesso sta aumentando ok ok prima me ne dava uno solo ehm mentre adesso ok è comparsa pure in altra ottimo però comunque va ancora non dirmi a meno che non devo andare tipo qua aspettate no forse me lo dà a parte quei sordi sono sempre una cifra quelle che entrano produzione ok facciamo 539 tonnellate al mese ok sul plus di 301 tonnellate quindi tecnicamente non dovremmo importarlo quindi c'è importazione a meno che ancora non si sono allacciati i contatti o qualcosa che tecnicamente dovremmo averci in estrazioni minerali a mettermi dai russo importazioni forse no non so come legge sto grafico sinceramente cioè qui abbiamo un deficit di 1161 tonnellate per quanto riguarda il bestiame questo vuol dire che ovviamente noi lo andiamo ad importare credo perché abbiamo un deficit a meno che non dovremmo importarne ancora di più questo vuol dire che qualcosina magari nella nostra terra dovremmo iniziare a fare qui sembra a posto insomma sul plus di 301 vuol dire che quello che penso che lo andiamo a esportare insomma credo vediamo un po' se questi qui hanno ancora problemi de de rocce questi minerali metallici minerali metallici minerali metallici metalli più acciaio prodotti petrolchimici più agenti chimici vabbè ora vediamo poi se la situazione magari si sistema allora mi aspettavo che uscissero qualcosa qui qualche camion niente vabbè vediamo un attimo per il momento siamo 207 su 208 manca un poco istruito come come posizione però insomma mi sembra che stiano ok che altro c'è che vi ha dato l'accesso ai veicoli ma stato non raggiungi il punto di ingresso ah aspreme se ho messo a mare questa strada qua allora per quello non riescono a ad uscire a parte che potevo fare una strada pure un filino più piccola di sto coso enorme che ho creato fuori allora rimpiccioliamo un attimo e proviamo a farla magari canzone troppo ripida guardate ok sono messi a fare gli incroci pure qua così annaccia ok vediamo un po' se gli piace fatto sto coso strano qua vabbè e ok ah no ecco l'ecco di camion ottimo credo che li stiano stiano arrivando a caricare ora eh si gira prenderà sta roba qua forse che ha preso guarda cacchio di niente ha preso vabbè 211 ah no i posti sono 200 posizioni aperte meno una addirittura ok siamo troppi siamo ok va bene allora dicevo la cosa che dobbiamo sistemare appunto è questa zona qui a parte tutte le le tratti perché le ho fatti passare in maniera errata invece di farli passare qua dove appunto magari hanno anche una stazioncinella entrano direttamente nel deposito e poi fanno un giro che passano due volte me l'avete segnalato quindi andiamolo a sistemare sta cosa cerchiamo di eh ottimizzare un pochettino la la faccenda e devo andare qua quindi lì della metropolitana ci serve quelle quella verde non questa che serve la verde ok perché non me la fa vedere perché ha sbagliato cliccare allora direi che possiamo secondo me la sbarachiamo e la rifacciamo un attimino da capo perché forse per questo viene utilizzata poco allora vediamo un attimino la verde deve partire da qui quindi facciamoci qua arriverà in teoria in teoria devo farlo partire qui la devo far passare perché qui non sono collegate cazzo ruota di casino qui tra le strade e altro e allora volendola farla passare qui che giro farebbe ma fa sta versione qua bruttissima no direi di no e allora aspettare devo sistemare sta zona qui allora aspetta mi sa che c'è da fare anche dei lavoretti qua strutturali allora mezzi linea dei binari allora qui va bene qui devono partire da qui andare sotto si possono diciamo congiungere con quest'altra qua sperando che non mi dia problemate infatti lo sapevo a parte che mi sa che questa sta un po' più in basso come come livello rispetto all' sbagliato rispetto all'altra mi sa che mi dice i binari non collegati quanto sta giù sta cosa scusami ma come ricordo quanto l'ho fatta è una cifra cazzarola una cifra giuro fatta ok quindi salgono sopra rimani qua e qua ovviamente ripassa la rifacciamo andare giù aspetta se ci riesco ok e la portiamo a intercettare ah qua tocca andare un bel più giù così andrà a intercettare quest'altra qua ok che poi si ricongiunge con la stazione quindi per fare appunto la tratta se ci ria facciamo allora abbiamo detto si comincia da qua andremo qui ok andremo andremo qui facciamo il giro giro inverso da perché là comunque sempre vabbè allora intanto arriviamo qui e ci siamo poi tocca fare l'altro giro quindi ora rifacciamo partire sempre da qua oppure collegando questa devo farla partire e farla arrivare magari qua giù aspetta eh questa pure non so a che altezza sta sta inserita ok e niente devo rifarla da capo che pizza sta cosa che non mi serva allora questa qua spero che prenda la deviazione ok e arriverà abbiamo detto qua mentre sta altro lato vabbè l'inversione la fallì non è vede lui insomma non è un problema arriverà di nuovo qui e spero che vada dritto perché deve arrivare no devi andare qua per approdare da quest'altra parte e niente vanno tutti e due da stesso lato però va bene uguale perché arrivi ok ha creata sparo di sì sì direi di sì ok togliamo un attimo la pausa vediamo un attimo com'è la situazione qua ovviamente qui erano già partiti dei treni che penso che debbano aspettare per far il giro ora questo sarà il vecchio vecchio convoglio forse aspetta un attimo che si aggiorni la la faccenda allora altra cosa che dovremmo fare ragazzi sistemare questa zona qui come vedete è un casino di traffico a prescindere dagli aggiornamenti che hanno fatto è comunque in casino di traffico cioè vedete qua che caspita di situazione si va a formare quindi secondo me dobbiamo andare a portarci oltre agli autobus anche in amore tripulitano da ste parti assolutamente perché qui si crea sempre un sacco di traffico perché la gente deve venirci con la macchina e va a sistemarsi nei vari parcheggi quindi principalmente la fila è per chi vuole andare a trovare il parcheggio vedete come sempre arrivano qui è pieno è pieno e me ne vado però sull'altro però intanto la coda e tutto il resto si va a formare a parte c'ho richieste enormi di zone magari mettiamoci un grattagielo da ste parti ok mentre parliamo allora vediamo un attimo qui gira soltanto la soltanto l'autobus e la zona con qua pure vanno ad essere 70.000 volte per qua ho cannato la 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 questione ok ma così mi sembra che va bene un lato fa un verso e un lato fa l'altro qua no però aspetta togliamo così ok questo pensa che va qui perché fa inversione diciamo e torna indietro ok eccolo il la la metro quindi secondo me dobbiamo far partire eventualmente poi vediamo come come fare magari non tutti sullo stesso binario e se non si crea un casino dovrai creare un percorso circolare sempre sullo stesso binario non sulla su due binari distinti perché il secondo volevo sfruttarlo appunto per quella che poi farà il giro intorno allora andiamoci a piazzare prima le fermate poi giustiamo un attimo questa cosa allora qui c'è una fermata dell'autobus quindi secondo me una della metro ci può andare benissimo qui poi allora diciamo che partono qui no parte qua e parte qui la mandiamo qui che caspita c'è non mi ricordo ne metto una qui in maniera preventiva poi questa zona sicuramente la andremo ad espandere quindi magari una stazione metro può andare bene quindi la mettiamo che da lì arriva qui da qui si ferma si ferma può andare secondo me dovrei allungare un po' qua però vabbè potrebbe andare il problema è che questo ha un picciato con con i palazzi uno lo devo andare o andiamo a sacrificare la mandiamo lì da quel punto va qua direi sì qui poi ah no aspetta l'abbiamo già messa aspetta aspetta stanno un po' troppo vicini ora ok qua l'abbiamo già piazzato e allora da qui va qua e da qua potrebbe andare magari una via usola qui interna eppure qua ma se devo andare a sacrificarmi mi sacrifico questi che so piccini in più ne mettiamo un'altra prima che finisce prima che torni indietro sarebbe stato utile ma se mette ne una qua però ma allora mettiamo ne una qua ok è quella che abbiamo posizionato qua se ce la fa spostare sì la piazziamo da st'altro lato ok forse allora ora c'è da collegare tutto quanto allora intanto tutte le fermate le andremo a potenziare con i ristoranti quindi abbiamo detto che da qui arriviamo qua che poi andremo a finire qui da qui andiamo qua da qua qui e poi da qua tecnicamente dovremmo riandare qua si allora aspettiamo aspettate un attimo sta cosa qua però eeeh allora perché ste rotaie non le faccio arrivare direttamente qua ecco ecco ti pare che non si pensa attaccano stanno più in basso non le faccio sono fatte profonde ste cavole di di rotaie in azione in azione ah ah c'è la fermata ma non c'è niente che caspita soprappone la strada sta sopra mica devo far sotto io niente oggetti soprapposti ah perché se la sposto vado sui binari giustamente aspetta togliamo tutto un attimo qua ok allora abbiamo detto questa la spostiamo infatti vedete mettiamo qua allora vediamo se riusciamo a mettere ste rotaie ora ok mi sembra che gli piaccia già un po' di più e queste le facciamo arrivare magari aspetta questa la togliamo la togliamo a parte che avrà potuto fare magari una curva già da subito tipo così ok direi che ci siamo il problema che queste questa qua dovrebbe andare tutta su un'unica niente pure questa devo rifà deve andare su un unico mettico volendo o no il problema è che io volevo collegare anche tutto il resto facciamolo andare tutto su un unico binario senza che va a utilizzare entrambi i binari altrimenti faccio un passaggio qua si uniscono e li sfruttano vabbè intanto crea bene un'altra questa la facciamo di colore rosso quindi partirà da qui aspetta io qua ci devo ancora fare i binari aspetta devo andare un po' troppo allora perché mi dà i oggetti sovrapposti di cosa che pizza che vuole e ti sovrapposti di che è una questione di altezza che c'ha che non va scusa ma l'hai fatta sposta qui mi dice oggetti sovrapposti mannaggia la miseria oggetti sovrapposti però non mi dice cosa è sovrapposto signore eh ma va bene ma che chiezzo ma perché no capisco sta cosa una volta non lo so vabbè facciamoci domande allora dobbiamo cercare di fare una curva fino più dolce perché poi dobbiamo cercare di ritornare qua alla fermata ok poi partiamo da qui ok poi da qua andiamo direttamente qui perfetto quindi da qua un pezzettino proprio ok da qua proprio uguale un pezzettino ino ino perfetto e qua poi dovremmo cercare di congiungerci col resto ecco il resto se no devo fare un'altra stazione intermedia magari aspettate magari le facciamo un'altra qua 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 sopra no ah dovrei mettere in verticale però metterla qua dai vediamo un po' cash fari allora quindi queste li congiungiamo qua ecco già non gli piace che vuoi che vuoi è come se non fossero allineati nella stessa altezza non c'è modo più rapido per capire se effettivamente sto nella stessa altezza ok così devo capire come ricongiungere qua però devo fare un po' di curve ecco perché questo non gli va più bene niente non la capisco lo so alcuni mi ha messo più più su altri più giù non si capisce devo cercare di evitare di fare una curva proprio di quelle brutte 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 oh così a posto se gli piace è a posto così allora vediamo di far c'è sta utilizziamo quest'altra quindi la prima sarà qua quindi utilizziamo quella diciamo più interna così poi la seconda sarà qua poi andremo qua qui ok spero che la utilizzino poi sta sta cosa ok direi che ci siamo togliamo la la pausa e via torniamo un attimo più in superficie quindi ora la metro ha anche l'altra zona che è questa la rossa certo c'è l'unico c'è l'unico punto per andare a prendere quella lì effettivamente è qua se non anche nelle altre zone vabbè dove ci sono le fermate dovrei forse mettere perché se non poi si creerà un casino qua sicuro si creerà il casino del gente che vi è qui e fa i vari scambi di metro vabbè c'è da lì che volendo uno la può prendere pure qua poi ci ho messo appunto la fermata apposta le brutte si parcheggiano in uno di questi posti questi parcheggi se lo trovano libero e e vengono qui nella metro ora spero che la che la utilizzino più che altro ora quale sono le 2 30 quindi ancora presto bisogna vedere magari nell'ora di punta com'è la situazione qui c'è diciamo lo snodo delle varie aree anche per quanto riguarda i pullman il problema il problema è che sta linea qui con tutto il traffico è proprio un casino c'è 658 passeggeri in attesa in attesa perché parte qua perché tutte queste stazioni scusa queste dove ah ok sono queste vedevo stazioni abbastanza vicine non riuscivo a capire quali fossero effettivamente questi il punto più più alto questi qua che sono bianchi non capiscono la differenza forse dove non sono ancora passati beh no qui o dove ci sono un sacco di passeggeri questi stanno proprio bloccati proprio bloccati dove cazzo stanno questi scusa qua il problema è che anche se ho messo le corsie preferenziali non è così veloce sto sto servizio pubblico che altro per il boato di di traffic che c'è in giro chi è guarda qua ora so è a 3.23 c'è già gente blocchata e l'autobus si ferma se ne so addirittura scomparsi ovviamente c'era veramente troppa gente il problema è che magari ho sbagliato a mettere sto parcheggio qua che va ovviamente ad utilizzare la gente ad utilizzare la corsia che poi è anche destinata all'autobus quindi non è proprio preferenziale se comunque si crea la fila delle persone che devono andare a parcheggiare qui che tra l'altro pure questo è pieno quindi non l'ho proprio non l'ho proprio posizionata bene questa cosa in verità tutti gli auto cioè tutti i parcheggi non so posizionati correttamente una cosa che ho fatto che quando non stavo registrando aver messo gli alberi qui al centro che penso che ancora cresce si grossomoto mi sono scordato vedendo di metterli qua e già che c'è sto piazziamo pure l'alberio lì qui per una questione di simmetria ok bisogna un attimino aspettare ora questa situazione per le metro che devo sicuramente andare a sistemare meglio insomma il biglietto sono 8 dollari 8 credit insomma penso che si va bene intanto non abbiamo problemi dei sordi 123 milioni in crescita cioè stiamo positivi di 68 milioni cioè cosa assurda siamo arrivati alla modalità soldi infiniti praticamente allora vediamo un attimino questa comandità 100 passaggiari in attesa ora 6 perché si vede che è appena arrivata eccola per il momento c'è una sola linea che gira o 2 ah una linea una no linea sporti pubblici confermati in questa stazione una sola beh io spero che questi quando scendono da qua chi deve prendere l'altra metro vada direttamente su quest'altra insomma ah no ce ne sono due che girano però non so se troppo troppo sono poche sono 35 1 189 secondo me sono i cerchietti diventano pieni quando c'è troppa gente che è ferma qui ce ne so 100 mazza quanti si effettivamente ma tecnicamente che arriva eccola quanti ne carica la metro casino penso sono già in attesa ora 4 quindi tutti quelli che c'erano se li è se li è portati via no sto valutando se vanno vanno bene i due oppure vanno messi minimo tre di di metro in verità utilizzo da line 24% qua dice che se non sono masco al 100% non non conviene cioè se sono al 100% vedete che è troppo trafficata qui che cazzo è successo addirittura in fiamme attenzione un incidente con vetture in fiamme va capendo devono arrivare i pompieri ho tutto sto traffico prima che arriva una voglia sta macchina sarà bella che è bruciata prima che arrivano i pompieri non ho idea dove è l'altra allora una ce l'abbiamo qui o lì secondo me un'altra grande sarebbe da mettere secondo me se una sta qua e magari una la mettiamo qua non si sa mai rischio di incendio medio 20% allora è quasi l'ora dei punti e qui c'è sta il panico ovviamente c'è veramente tanto tanto panico purtroppo c'è gente molta gente che va a piedi eh questa è una attenzione stradale che si è arrivato per togliere da mezzo sto questo incidente qua è finito il camoncino scusa è sparito e niente è sparito no sistemiamo sta situazione qua questa è la cosa tipo impie ma sono venuti qua da cazzo andate sta qui a fuoco ah no ma questo è bruciato quindi va solo rimossa ok pensavo che stesse ancora bruciando cazzo vedete il panico che si crea qui cioè per assoluto sono proprio i parcheggi a creare il casino perché tutte le persone vogliono andare lì e quindi gli autobus si bloccano tutto si blocca e tutto si rallenta guarda qua che cacchio l'ingorgio ed è inutile che metto la la rotonda non risolvo assolutamente niente perché tutti quelli vogliono andare qua devo limitare l'uso di queste cavole di macchine mi era venuto in mente eventualmente di blocchiare il traffico le vetture in questa zona ma credo sia controproducente perché comunque sia non abbiamo secondo me mezzi troppo ottimisti per il trasporto pubblico qui per esempio è voto pure qua c'è un altro che praticamente è voto forse questo è un po' troppo lontano vai vai lo piallamo pure è inutile che ce l'ho perché tutti ovviamente si concentrano qui internamente se utilizzassero invece le linee metro non sarebbe male ma pure l'autobus se solo funzionasse correttamente guarda qua che caspita di casino guarda quattro autobus fermi perché tutti devono andare qua cioè per fortuna quelli che devono andare dietro non si vanno in colonna il problema è che tutti quelli che stanno qui sono perché si devono mettere nel parcheggio stanno cercando parcheggio quindi si crea oddio qua il panico ma la gente che ha smistato corsie diciamo che ci devono ancora lavorare su sta cosa qui si fa fila la gente che deve attraversare diciamo che va ancora un po' sistemata sta questione del traffico credo che sia una cosa più difficile credo da andare a sistemare proprio anche il livello di programmazione c'erano alcune mod che ti facevano dire proprio effettivamente guarda qua puoi solo girare a destra tutti quelli possono andare dritti hanno messo una pezza anche loro nel poterlo fare però alcune mod erano proprio molto dettagliate potevi scegliere il tempo dei semafori insomma scendevi molto nel dettaglio della personalizzazione del traffico sicuramente faranno una versione anche per questo gioco forse l'hanno già fatta io non ne sono a conoscenza ma qui c'è un ingorgo pauroso di cacchia di bus che dobbiamo cercare di risolve il problema il problema è che questi devono andare a destra e quindi piano piano si crea il panico per esempio questo sta a creare il panico è inutile che ti metti su a seconda se poi devi andare a destra crei solo casino va bene allora ragazzi direi che ci possiamo anche salutare qui se non andiamo veramente tanto lunghi i problemi purtroppo sono sempre gli stessi e devo capire come risolverli c'ho quasi una mezzità di togliere questi parcheggi ma in verità li avevo aggiunti proprio perché altrimenti tutti vanno su questi grossi l'alternativa si sono i mezzi pubblici ovviamente che funzionano o se no devo fare un quartiere magari limitato appunto a questa zona qui anche se già c'ho questo in verità dove appunto cazzo succede qua oh sta andaffago andaffago tutto qualcuno ce va c'ha la camionetta qui a parte me sa che abbiamo un un eliporto me sa che non ce l'ho mai messo stiamo un attimo qua non so assolutamente ci serve magari per quelle zone appunto dove non non possiamo andare vediamo un po' se deposito di elicotteri antincendio non ci sono potenziamenti quindi c'è proprio da fare spero che che vadano qua sta bruciato ok sono arrivati ok ok ce l'ho messo un po' ma sono arrivati il problema è che qua come ci vanno poi questi bruciano quelli che stanno in prossimità della effetto ho sentito nell'elicottero tipo eccolo grande lo vuole perfetto e lì ci vorrebbe proprio ok ottimo sa che ne dovrà mettere qualcun altro perché qui la zona c'è aperto e qua c'è un bel po' di di alberi insomma quindi ci sta che possa capitare un incendio pure qua c'è un po' di cacciara devo sistemarla ancora bene sta sta zona qui come andiamo ok allora i problemi delle materie prima se ne sono andate queste abbandonate addirittura e allora aiuto piallo se l'hai abbandonato per andare a ne venga qualcun altro e questo invece ancora c'è i costi alti e vabbè pazienza insomma l'importante è che comunque qualcosina perlomeno di nostra produzione la stiamo la stiamo andando a creare e sta andando anche bene insomma i impiegati sono aumentati un casotto quindi ottimo così ci mancano un po' di istruiti un po' di pochi istruiti ma forse piano piano arriveranno bambini va bene allora ragazzi direi che ci possiamo appunto anche salutare qui vediamo poi come sistemare sta sta zona vedremo non lo so forse ho messo un po' troppo attaccate questi grattacieli insomma quindi il casino il traffico si genererà sempre vediamo dai vediamo anche poi come andrà la risposta da parte dei cittadini per quanto riguarda le metro e quindi magari riusciranno ad utilizzarle meglio ed eviteranno di portare appunto qui vetture altrimenti dovremmo eventualmente andare a prenderci a metterci delle altre fermate perché c'è soltanto un unico collegamento che parte da qua sopra e arriva qui e basta secondo me qualcosa anche magari un po' più internamente non sarebbe male come come cosa qua sono passeggeri in attesa 30 però perché penso che maggiormente preferisca arrivarci con la macchina giustamente insomma quindi vediamo dai vediamo quindi io di nuovo vi saluto vi ringrazio per la visione e ci vediamo al prossimo video ciao ciao ciao